Valori sono partite le iscrizioni per questa non edizione? Esattamente, la non edizione, anche questa partita insordina nove anni fa e poi alla fine piano piano è cresciuta e sta avendo da allora sempre un buon successo di partecipazione, cosa a cui puntavamo la partecipazione dei genitori fin dall'inizio. Quando prenderà il via il torneo e dove ci si potrà iscrivere? Allora, il torneo prenderà il via l'11 novembre, iscrizioni entro il 4 novembre, facendo poi riferimento al sottoscritto, poi lascerò i vari dati telefonici e email. Ci si deve iscrivere per classi, non è che persone singole possano dare il nominativo, ma la cosa bella è creare l'unione fra le classi, cioè il torneo è organizzato per genitori delle scuole fanesi, nelle proprie classi, si conosceranno, conosceranno i loro difetti sul campo e soprattutto faranno sorridere i bambini che saranno poi i protagonisti tifosi che vedranno finalmente i propri genitori in un momento un po' più goliardico, piuttosto che sempre genitori che devono dire quello che non devono fare o essere... Vedranno che i genitori saranno più bambini di loro, più bambinoni di loro, nel momento giusto, nel posto giusto. E c'è anche una grande novità quest'anno. Sì, abbiamo cercato di allargare proprio la familiarità, aggiungendo la possibilità di far giocare anche sorelle e fratelli dei bambini stessi, nonché anche la possibilità delle associazioni che collaborano da sempre con noi, come l'Avis, CSI, la Croce Rossa, quest'anno che è subentrata, di formare la loro squadra. Non possono mancare eventualmente anche quelli dell'amministrazione che con noi hanno sempre collaborato. Sarei contento di vedervi in campo, iscrivetevi entro il 4 novembre, i miei contatti li potete leggere. Veramente, ci sarà solo da divertirsi e far divertire i propri figli. È una cosa che secondo me non fa male, poi ci si conoscerà tutti sempre di più. E a Fano, piano piano, ci stiamo conoscendo tutti, i miei coetanei, proprio grazie anche a questo torneo.